Anche se ritengo di rivolgere un particolare ringraziamento al Caffiero Verano, che è un grande magistrato, ma non per viaggeria o per ricambiare le cose che mi viene volmente detto di me, perché mi ha dato la gioia e la sfortuna di aver perso un fratello amatissimo, che si chiama Francesco, in cui io in genere non parlo per evitare di passare per un ruolo speculare, perché mi ha dato giustizia e quindi io mi considero fortunato in questo, perché dopo 20 anni di indagini sbagliate, svolte da altri magistrati di Santa Maria Capoele, oppure le indagini assente e resistente, l'insinuazione rivolte nei confronti di Franco e della morte che è stata ferita gravemente, è che io ho avuto la possibilità di avere giustizia, perché egli ha scoperto la verità e ha provocato la condanna di colpevoli, di delitti gravissimi. Ecco, questo non è accaduto in molti altri casi, purtroppo. Quello che è accaduto per l'omicidio di Franco e Cosimato non è accaduto per molti altri comicidi, che riguardano non solo i magistrati, ma anche agenti di polizia, carabinieri, guardi di finanza, basta pensare alla strage di Capace, la strage di Via D'Amelio, per rendersi conto che queste strage non hanno ancora i veri colpevoli, mi riferisco alla strage di Via D'Amelio, o non hanno ancora i colpevoli con i mandati che sono ancora dietro. E io mi sento corresponsabile, caro fratelli, di questa, corresponsabile nel senso che mi sento un senso di polpa, prima di tutto perché conoscevo questi magistrati, ero amico di questi magistrati. Gioanni Falcone, Paolo Bossellino, generale della Chiesa, Guido Galli e tanti altri di quelli che sono accaduti. Anche Scopellini, Antonio Scopellini, un magistrato che era destinato a sostenere la pubblica accusa del massimo processo, contro la mafia, ed è stato ucciso perché non facesse l'accusa. Si sperava attraverso l'assassinio di Antonino Scopellini di poter ottenere il ritardo nella sentenza che avrebbe dovuto provocare la scaccia d'azione a presa dei termini, questo che comunque era la cosa che poi si è verificato, per cui addirittura una massa di criminali ben conosci, come Notorina ed altri, avrebbe potuto poter scaccia d'azione a presa dei termini, fatto un decreto per impedire la scaccia di un'azione a presa dei termini. di confusi. E questo che cosa sta a significare? Che io mi sento di colpa perché? Perché come mai questi non hanno avuto giustizio? Ma attenzione, quando parliamo di omicidio magistrati, di uomini delle forze dell'Odine, di Carabinieri, di Udizio, Guardi Finanza, parliamo dello Stato. Quindi se l'omicidio qualsiasi è un fatto grave, quando si tratta di colpire uomini dello Stato, e allora il fatto è pericoloso per la democrazia, perché allora incomincia a verificarsi quello che alcuni grandi del passato hanno sempre messo in evidenza. Aristotele. Che cosa diceva Aristotele? Diceva che lo Stato ha il suo pilastro nella giustizia. Guardi a uno Stato in cui non c'è giustizia perché lo Stato è destinato a disgregarsi. E quando parliamo di giustizia, parliamo di legalità, perché la giustizia è applicazione della giustizia ai colleghi. E quello che purtroppo si è verificato in molti casi, in questo nostro paese. Soprattutto nel caso delle stragi. Allora, diciamo che io voglio fare uno sforzo per cercare di fare una sintesi, ma ho spiegato a me stesso, per capire che cosa è successo in questi anni. Per capire, cioè, se queste stragi sono state opera di mafiosi e di terroristi, lunghe e basta, oppure se assieme ai mafiosi e terroristi agivano altre entità. È grande stata la mia amorezza, però anche la mia gioia, dello scoprire che gli terroristi hanno agito sicuramente, portendo i uomini. I mafiosi hanno agito nel fare la strage di capaci e di via da me. Ma c'erano altre entità. Erano entità politiche. Erano uomini politici di carne e ossa che si servivano dei mafiosi e di terroristi. Fin dal 1969. Fin da quando c'è semplice. Fin dalla strage di Portello di Maggio Resto. Questo è il punto. Questa è la verità che io credo di aver raggiunto rispetto a me stesso, per l'esigenza che io sentivo. E questo riconforta, perché quando parliamo di istituzioni trattativa tra strada e mafia, attenzione, noi non è che dobbiamo mettere sotto accusa i carabinieri, l'ha detto il colonnello Mori, l'ha detto una cosa giusta, il processo di parere, il generale nel processo di parere. Quando vi salvo, scrivendo delle festerie, ha concluso che la strattativa non c'è stata e che la... quello che è avvenuto ha detto solo per colpa dei carabinieri e di qualche uomo così nelle forze dell'ordine, lui ha decisamente reagito e ha fatto una situazione acuta, ha detto ma sarebbe troppo comodo pensare che io abbia uscito senza che vi siano altri che mi hanno indotto ad agire in quel mondo. Questo è il punto. Allora quando parliamo di servizi segreti che hanno fatto quello che hanno fatto, io mi sono chiesto ma prima di tutto erano servizi segreti dei miranti o erano proprio i servizi segreti nell'ordine? Erano servizi segreti. Però i servizi segreti hanno fatto per conto di entità politiche, di uomini politici, per esempio come Francesco Rossini, come Giulia Andreotti, che si castano dietro e come altri uomini politici. E quindi non dobbiamo crocifiggere di quello che si chiama il singolo uomo politico dello Stato, oppure ecco dice otto funzionario, il contrario è che gli staggivano per il conto di politici. E con la strage di Camas e di Dianabello e che le strage successive a questi, cioè quella di via dei Giorgofili e la strage dell'Olimpico del libro 994 che doveva producare più di mille monti, erano funzionali all'avvento del governo di Berlusconi. Questo è sicuro. Ma non voglio fare politica, è così, non lo dico solo io, l'ha detto pure, gas e ha ragione. Cioè queste strage sono state opera di mafiosi e terroristi, ma hanno sempre avuto una funzione di incidere sulla dinamica politica nel senso di provocare dei cambiamenti peggio nel nostro Paese e l'avvento di forze occulte le azionari che potessero evitare questo. Troppo quello che dico può sembrare può sembrare esagerato e può sembrare che questo è tutto provato, è proprio certo. Poi pensate alla mafia, non bisogna essere magistrati, bravi con me, capire l'erao, per fare questo ragionamento. Poi pensate alla mafia che ti importa di fare l'attentato alla caglieria di si tratta alla mafia che esiste. Cosa ha fatto la domanda cinque volte? A Milano, nello stesso anno, hanno fatto altre strage presso altri luoghi d'arte che sono completamente ignori, pur a l'altro domenico approvvizzato e Matteo Messina Menani. Quelle strage avevano un solo scopo, quello di creare allarme e di creare paura e di provocare la reazione della gente con una richiesta di un governo forte, di che potessero garantire quella sicurezza che gli stessi autori delle strage mandati volevano provocare. Ecco, allora, questo mi, diciamo, a contere un aspetto cosiddico, caro di un generale che ha lavorato con me perché gli altri, come persona che gli ha affiancato nella lotta al terrorismo, parlo di molti, che fanno delle cose che sono impossibili. Lui non può averlo fatto, per quanto fa, se ha fatto delle cose. Qua dobbiamo prendere atto che ci sono stati dei presidenti della Repubblica che hanno fatto delle cose ignori. Chi era il presidente delle letture? Uno è Francesco Possiglio, che era un'associazione edesiva che comprendeva il proprio interno terrorista, uomini politici, professionisti, mafiosi, massoni. E pensate che c'è una via di Roma, che si chiama via Sicilica, è nata la testa di via Veneto, dove avevano sede, contemporaneamente, le basi di associazioni massoni, con dire l'uomo, la, e, e ancora, servizi segreti, sì, e Cia. E in questa vicenda, quello che io pensavo che fosse opera di costruzione fantasiosa di alcune persone, invece, non posso riconoscere della verità. Purtroppo ci sono i servizi segreti stravieri, soprattutto la città, che hanno avuto un peso determinante. Questo da una parte mi conforta, perché? Perché se noi riusciamo a liberarsi di questa decepulina, di questo servizio segreto mostruoso, e allora noi possiamo riconquistare la nostra libertà. Chi è che ha detto questo? Beh, questa cosa sta scritta in un documento che era legato alla requisitoria di Elino e di Sandrini del numero 272. Un documento che mi ha regalato Gerardo Grossi. Vado a leggere questo documento che si dice tutto. Si parla della strategia, dell'attenzione, dell'intervento, di forze occulte, tra cui la famosa, il famoso gruppo Bilderberg in Italia e della città che viene divinita come un soggetto, un soggetto che agisce in maniera costruosa, agisce con quel che si avvale di immensi capitali economici. Nel 1967 discorreva di 500 milioni di dollari all'anno, con cui il corpo non viva più. Sai, il banale è una cosa, è comunque che controllare il nostro servizio segreto. Ecco, allora noi dobbiamo liberarsi di questa cosa, perché molte cose sono avvenute in Italia, per l'interferenza di forze occulte, anche e soprattutto dall'America, dalla massore di Italia, perché prima c'era l'ossessione di combattere i comunici, e capisco che si potesse essere qualche forza di un po', poi il comunismo è caduto, perché l'avete fatto gli altri, l'avete ordinato in altre stranze, perché sono stati uomini di pace a volere con queste stranze. Purtroppo è così. Io mi sono risultato per molti anni di prendere a questa stranze, ma invece è così. È così sicuramente, perché ci sono ormai prove schiaccianti che dimostrano come questa forza viciniana, che è la CIA, ha conti il sematico sostegno. Quando è stato interrogato il generale Giardino Valetti in Sudapia, dove sono andato lui a parlare, lui ha detto che i nostri servizi obbedivano ciecamente alla CIA. E se la CIA diceva di fare una cosa, i nostri servizi la prendevano l'ordine dalla nazionale, che aveva una sua struttura in via Sicilia accanto ai spizzeri italiani. E lì venivano portati, dovevano essere spatriati all'estero. E allora, ecco, che cosa vorrei dire? Io vorrei dire questo qui. Intanto io spero che noi riusciamo a liberarci da questa forma di prepotenza e di prevadicazione e di egemonia criminale che viene dall'estero. Perché non è possibile che noi continuiamo ancora a subire questi interventi? Perché sono sicuri che quelli che hanno fatto la tratta prima. L'hanno fatto. E poi non è la tratta prima di un accordo criminale tra una parte dello Stato e la mafia. Per fare che cosa? Per costringere lo Stato a cedere al ricatto dei mafiosi. Ma anche per eliminare i due magistrati che stavano conoscendo la verità. Falcone possa dire che stavano indagando sui fatti di su cui anch'io stavo indagando sugli appalti pubblici che riguardavano non solo la mafia ma anche grandi imprese del nord come la gestione di Gardini e come altre imprese del nord che erano insospettate. E allora lui quando ha scoperto questa infiltrazione della mafia e questo questo accordo tra mafia e grandi imprese del nord Italia e allora è diventato pericoloso. Ma io direi che i momenti erano diversi perché lui si era accorto di questo e si era accorto anche che esisteva l'acqua. Lo disse a me. Non solo detto a me ma ha scritto del suo diario. Lui ha scritto un diario nel 1990 che ha consegnato una giornalista chigliana Milena. In questo diario lui dice che ci era accorto che alcuni omicidi che lui teneva mafiosi in realtà erano omicidi politici e ha indicato quali erano questi omicidi. da Torre, dalla Chiesa, Mattarella, Riina, Reina e anche gli omicidi. Perché erano omicidi? Perché erano omicidi? Da omicidi che si erano serviti di mafiosi. Questa è la verità. E noi questo lo dice apertamente. E allora prima di tutto noi dobbiamo smascherare questi omicidi. Così come dobbiamo parlare della trattatura. Ecco qui. Allora, questa storia della corte costituzionale occupa tutto il mio rispetto, tutta la mia differenza. Ma sbagliate. Perché? Perché partiamo dalla legge, dal codice di l'intercettazione del pubblico. Prima di distruggere l'intercettazione, tu devi consultare le basi, cioè il pubblico ministero e il difensore deve mutare la partecipazione. I quali devono dire? Questa, qua, questa telefonata non mi interessa. E si distrugge. E allora io devo sentire il principio del contraddittorio. Ma non puoi distruggere una telefonata senza avere premettivamente, dare la possibilità ai difensori del diputato, della parte offesa, della parte civile, di interlocutore pubblico ministero. Che questa è una prova d'accusa. Io voglio questa immagine. Oppure quello dice questa è una prova a favore e poi distruggere. Beh, questa legge, se non sbagli, è basta vincente. Allora, voglio dire. Ripeto, io difendo l'ontranza di questo oggetto gli attacchi da parte di alcuni dissennati mobili politici. Potete dichiarare l'incostituzionalità di questa legge per la parte che non prevede la distruzione delle conversazioni casuali. Ma se non mai dichiarate l'incostituzionalità di questa legge, vince. E se invece non devi consentire alle parti di ascoltare per vedere se loro vogliono utilizzare. E infatti faccio un passo indietro. Cioè mancino. Ha fatto una telefonata a Dolis D'Ambrosio. E ha detto, questo è una telefonata che è stata pubblicata. Perché lui ha detto a Dolis D'Ambrosio, magistrato, bravo a Dolis D'Ambrosio. Ha detto, di al Presidente della Repubblica che intervenisse per mettere a posto i magistrati. Perché se non interveni a fare un'opera di persuasione dei magistrati, io sono costretto a tirare in ballo il nome di Oscar Luigi Scaffaro, che è la Presidente della Repubblica, come uno che ha partecipato alla trattativa. Va bene? Poi ha detto, le vogliono fare il confronto con Martelli. Io il confronto con Martelli non lo voglio fare. Beh, queste sono cose grandi. Perché? Perché prima di tutto emerge chiaro che si vuole tenere a primare questo scaffaro che non era mai apparsa. Invece chi ha fatto scaffaro prima? Perché è vero che c'è un vento che dice parcio seduto. Però c'è anche un'altra legge che dice che bisogna conoscere la verità amicus di Platon, sedemagius amica veritas, diceva Aristoteca. Amico è Platone, più amico di Platone è la verità. E da loro qual è la verità? La verità è quella che ha detto Martelli. Ha detto, qui c'era il Presidente della Repubblica della Scaffaro che era il regista della trattativa. Che ha fatto questo? Questo Presidente della Repubblica ha accacciato via il Ministro Scotti e il Ministro Martelli che avevano risedito i suggerimenti di Giovanni Falcone che aveva proposto di fare un decreto legge che praticamente conteneva tutta una serie di misure che potevano distruggere la mafia. Bene, queste cose vengono considerate come cosa da non fare. Io sono alla Camera del Deputato, per esempio, e ho vissuto sulla mia pelle un'altra di questa storia. Perché? Perché era un eratore della legge, del decreto legge fatto da Falcone e assunto come proprio da Martelli e da Vincenzo Scotti, persone che si sono comportate in maniera esemplare. Sono state cacciate fuori tutte e due da Scaffaro. E loro questi posti ci hanno detto, e chi hanno messo al posto di Scotti e di Martelli? Chi hanno messo? Io hanno detto, immagino. E poi immagino ha chiamato Borsellini. Nel momento in cui Borsellini stava parlando, un mutolo, Gaspare, che io conoscivo. E il mutolo aveva detto, guarda, io devo parlare di alcuni rapporti tra uomini politici e mafiosi, tra purtroppo alcuni magistrati e mafiosi. E hanno fatto i nomi di due magistrati che poi si è suicidati e un altro è stato sottoposto processo. E' uno, io vedo, che ha distrutto quasi tutti i processi che abbiamo. Perché i magistrati faticosamente avevano mandato in Cassazione. Allora, questo è il punto. Se un ministro, ripeto, tutto il rispetto, è possibile immaginare. Dice, perché questa è un'intercentazione che esiste, quale vuole essere realizzata, altrimenti io parlo, vuol dire che c'è qualche cosa che non abbiamo aiutato tutto. Noi non esistono delle immunità, perché la nostra Costituzione prevede che la legge vuole per tutti, per tutti. Non è per tutti. Quindi il Presidente della Repubblica ha un'immunità politica, giudiziaria. Ma lui non c'entra niente, perché lui era destinatario delle parole delle. Da come era il responsabile. Lui ha ascoltato queste parole. Conclusione. Ecco, noi non abbiamo la pretesa di aver fatto nulla di particolare, però non vorremmo. Io penso che il mio momento ha fatto nulla, forse, perché li conoscevo. Ma penso che la gente della scorta. Penso a Antomino, secondo i figli di cui nessuno si interessa più, perché è indipendente, perché sono fortunato. Io assisto alla figlia dei suoi figli. Purtroppo, come si è stata avanzata, erano una tutta, non si sa ancora di più. E invece qualcuno non funzionerà a parlare, perché hanno inzambiato questa cosa. E dobbiamo trovare nuovi, il Cafiero del Rao, spazi dell'Italia. Speriamo che gli sia vantaggioso per la scuola di sempre. Se mi è salato un po' alla Napoli, in altri luoghi dove possa amministrare giustizia. Perché laddove non c'è giustizia, non c'è libertà. E laddove non c'è giustizia e legalità, non c'è lo Stato e non c'è democrazia. Quindi per questo io credo che noi abbiamo il diritto dovere di fare, di pretendere questo, ma soprattutto di credere nei giorni. Perché io credo che i giorni adesso noi dobbiamo incoraggiarli e spenderli a intervenire, a scegliere il campo in politica. E dobbiamo costringere la vecchia classe comunità che ancora non ha capito che se ne deve andare in casa. Che deve restare in pazzo? Noi non vogliamo più questo italiano che se ne facciano male con una faccia nostra maierissima. Vogliamo i giovani. E noi vogliamo il bravo. E abbiamo fatto il tavolo vostro che scendere i gatti che non hanno. E poi scendere i gatti. Io già sono sceso in gatti, non posso. dobbiamo andare a trovare quali spazi che devono essere da dentro. Piuttosto voi, invece di scegliere i gatti che tenono quant'anni. Se stanno lì i gatti, i gatti si conosciuti. Ma non è che il gatti gatti deve essere conosciuto per essere valorizzato. Io non credo. La sua parte, anzi, me ne è conosciuto, ma è il tuo elego. Io ho conosciuto nelle scuole dove davano molti gatti, bravi e moraggiosi, e forti, e intelligenti, e maturi. E credo che questi potranno essere il nervo dello Stato. Non dirne lo male, ma il nuovo Stato. Potranno essere la nostra speranza, noi allora ci affidiamo per poter sperare nella rinascita, per il mio momento, nella rigenerazione del ricambio generazionale. Anche per dare giustizia a quegli uomini delle forze dell'ultimo che sono molti insieme magistrati. E di cui nessuno parla, cioè. Perché qua non è che parli o parli sui miei magistrati. Parlo di uomini morti a casa. Io sono presidente della fondazione Emanuela Loro. una ragazza giovanissima uccisa a Via D'Amelio e che non ha avuto giustizia. Cioè ha avuto un'apparente giustizia che hanno arrestato. loro persone che possono rifiutare. Non c'è. Un modo di rinascita. Una donna generata dopo 20 anni ha visto la scancelazione per mancanza di indizi. Perché è stata la revisione del processo. E queste cose dobbiamo sapere. E dobbiamo senza andare a parci. Sperare nel futuro. Sperare nella nostra gioventù. Però dare degli esempi. Non dire delle parole steriche e vuote. Senza dare degli esempi. Noi vogliamo dare degli esempi che sono le persone che sono qui accanto a me e si battono tutti i giorni fuori per la difesa della vitalità e che non chiedono niente altro che la comprensione e l'apposso della società genitica. Grazie.